buongiorno sono già michel carasso e oggi vi presento una specialità turca cruda sono delle polpettine di carne di manzo o di agnello noi abbiamo scelto il manzo che si fanno insieme al bulgur ammollato grano pestato chiamato bulgur che si trova ormai in commercio in diversi posti allora per fare questa specialità che si chiama ciccafe in turco abbiamo bisogno di carne macinata di manzo freschissima chiaramente non troppo grassa bulgur piuttosto fino ammollato quindi ammorbidito foglie di coriandolo fresco cipollotto fresco peperoncino pepe della giamaica pepe nero e sale allora questo piatto è molto semplice una volta in turchia si faceva pestando la carne nel mortaio per praticamente farlo diventare una specie di pasta noi ormai abbiamo una tecnologia moderna e la usiamo quindi prendiamo il nostro frullatore ci mettiamo la carne poi ci mettiamo un po di foglie di coriandolo fresco strappato in questo modo prendiamo del mettiamo del cipollotto fresco a gusto mettiamo un pochino di peperoncino in questo caso sto mettendo peperoncino verde fresco mettiamo un pochino di pepe della giamaica o pimento un pochino di pepe nero sale e aggiungiamo il bulgur ammollato è già tenero ecco noi facciamo girare tutto questo miscuglio per ridurlo praticamente in pasta bene allora adesso che abbiamo ridotto a pasta praticamente questo miscuglio lo mettiamo in una ciotola ora ci bagniamo un pochino le mani e facciamo delle polpettine facciamo delle polpettine grosse come una nocce praticamente che passiamo nel prezzemolo fresco un pochino c'è chi non lo fa di passarlo del prezzemolo fresco però a me piace abbastanza faremo una sì e una no magari si mangiano con le foglie di lattuga quelle che potete vedere sul piatto da portata che si usano come praticamente come cucchiaio si prende il foglio di lattuga si mette il ciccote e si mangia tutti insieme ecco a voi